Musica Benvenuti a tutti ragazzi bentornati sul canale di Joke Next Gen E oggi siamo con Black Ops 3 e stiamo facendo un bel tutti contro tutti Vediamo subito come va la partita ragazzi Uh bastardo eccolo qua bastardo Mi ha subito trucidato Ovviamente fermo lì ragazzi non è che ci si può muovere no Giusto bisogna essere camper eccolo Eccolo No non ci credo ma come ha fatto Eccolo qua Fuori uno Muori questo è il bastardo di prima Muori va il tuo bastardo Andiamo da qua Eccoti Fuori un altro Vediamo se c'è qualcun altro Vedo la sparo No bastardo Il primo già a 7 Noi siamo ancora a 3 Dobbiamo recuperare a tutti i costi Muori brutto bastardo Ragazzi guardate che il livello di camperaggio che c'è in questa partita è assurdo C'è un tutti contro tutti e non becco nessuno Nooo No si Mi aveva quasi ucciso nonostante che l'avessi puntato prima Non so se avete notato Ecco perché vi dico che ho problemi di connessione Muori fuori un altro 6-9 Dai dai che dobbiamo andare a prendere il primo Muori 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 E un altro Questa deve essere nostra questa partita Nooo Maledetto bastardo Ho il Tempex disponibile Lo uso subito No Ecco qua Uccisione Tempex Ecco qua Seconda uccisione Tempex Eccolo qua Guardatelo Ecco qua Ucciso 10-12 Dai ragazzi Il primo è due uccisioni soltanto in più No bastardo Connessione ragazzi mi da Spesso problemi Bastardo Da dove è apparso quel lurido bastardo Eccoti qua Eccoti qua Fuori due Che fra i due litiganti E' il terzo che gode Eccoti qua Fuori tre Oh bastardo Quasi Quattro Muori Bulto bastardo Muori Guardate quello Muori E basta E basta E basta Sempre da dietro E che cazzo Andiamo ragazzi Andiamo Ora da qua Mi apparirà un altro Dopo ormai Una cosa fissa Eccolo qua Infatti Per questa volta Te lo prendi dritto Per il culo Perché mi sono rotto il cazzo Andiamo ragazzi 16-25 Non so perché appare Questo simbolo Mi sono problemi di connessione Come vi dicevo Ho problemi di connessione interrotta Niente da fare ragazzi Ve l'avevo detto Ho problemi di connessione oggi Non capisco il perché Va lenta Fastop Sembrava che si fosse ripresa Ma niente da fare Quindi ragazzi Questa partita Ve la porterò Diciamo Vi farò vedere solo qualche cosa Di questa partita Visto che comunque Ho dovuto rifarla Anche perché Sinceramente Volevo portarvi solo Una partita oggi Magari farvi vedere Un po' di più Di un'unica partita Ma Visto che è così Ragazzi Niente Vi farò vedere Entrambe le partite Ok ragazzi Allora Visto che la prima partita Si è interrotta Ci vediamo fra poco Con la seconda partita Di un sempre Tutti contro tutti Ok ragazzi Eccoci tornati Con la seconda partita Del tutti contro tutti Sperando che Insomma Vada meglio di prima Che la connessione Non si interrompa Ecco qua Fuori uno E fuori No Fuori due No Ragazzi Ho fatto Delle prove Delle partite offline Senza registrare Ho comunque notato Che ho purtroppo Ancora problemi Ho problemi Sti cazzo di camper Cazzo di camper Ragazzi Sinceramente Basta ora Ecco qua Muori tu Prima sette Noi siamo a tre Potremmo Dico potremmo Provare Ah tu guarda sto Potremmo provare A recuperare Ma di questo passo La vedo Molto Molto dura Ecco qua Muori Va Mi sa che vorrei Minima Ecco qua Fuori un altro Vaffanculo Mi stanno dando Un po' tutti La caccia Fuori un altro Attenzione Sette Nove Stiamo piano piano Provando a recuperare Otto E' il primo E' arrivato a dieci Bastardo Di ordini Eh muori Fanculo Adesso è nove Dieci Ragazzi Siamo a un'uccisione Dal primo No 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 Dieci E' Un nemico undici No E' il primo E' undici Attenzione L'ho visto Eccolo qua Eccolo qua Undici pari No Da dietro Bastardo Presumibilmente E' da qua No Mira di merda Ragazzi Mira di merda Eccoti qua 12 14 No ragazzi Non ci posso credere Come ha laggato Non so se l'avete visto Ha laggato Tantissimo Penso che potrebbe Farmi male Quel coso lì Noi siamo qui Ucciso ancora Ecco qua Un altro ucciso Vediamo Ecco qua Ucciso ancora Da dietro Lo sapevo Da dietro Vediamo Chi è che mi ha sparato Maledetto Bastardo Ok ragazzi Siamo però arrivati Terzi In questa partita Spero che l'episodio Quindi vi sia piaciuto Ragazzi Come sempre Sotto Nei contatti Trovate la mia pagina Facebook Twitter Instagram PSN Xbox Live Se volete aggiungermi Se avete qualche serie Da propormi Fatemelo sapere Vi chiedo la gentilezza Se mi sapete indicare Come risolvere Il problema di Fastweb Vi ricordo che ho già IP fisso E il NAT Però mi rimane ristretto Al massimo diventa moderato Fastweb non può avere NAT1 Ma può raggiungere NAT2 In maniera costante Perché non riesco Ad avere NAT moderato Ma sempre ristretto Ragazzi Qui da AngeloNero83 Tutto Ci vediamo Nel prossimo video Bella Ciao a tutti Grazie a tutti.